Buonasera ai telespettatori di Rossini TV, benvenuti a questa serata dedicata alla prima tappa di avvicinamento al festival. Siamo qua con il direttore artistico Cristian Della Chiara, direttore artistico del festival dei GAD e con lui chiacchiereremo una decina di minuti per introdurre le tematiche di questa 73esima edizione del festival e per introdurre anche alcune commedie che sono state scelte dalla direzione artistica e dal comitato organizzatore del festival, proprio per dare una sorta di filo conduttore per qualche settimana in modo da avvicinarci a quello che sarà poi il debutto e l'esordio della prima serata del festival. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, sì abbiamo pensato di avvicinarci piano piano al festival proponendo alcune, non voglio dire i più belli, sono tutti belli e noi facciamo fatica a scegliere quale può essere più bello dell'altro, ma una selezione di spettacoli che possano funzionare in televisione innanzitutto e che possano essere rappresentativi della varietà di proposte che offre il GAD, quindi si potrà ridere, ci si potrà commuovere, si potranno vedere spettacoli collettivi, spettacoli con poche persone, insomma una varietà di proposte per avvicinarci al festival, è che appunto tutta questa varietà la condenserà in un'edizione, faccio già un salto avanti, mi permetto di dire una delle novità di quest'anno, c'è un'edizione che sarà particolarmente ancora più vicina alla formula festival, perché 10 giorni consecutivi in cui ogni giorno si andrà a teatro e ogni giorno si potrà toccare con mano la varietà di cui avevo appena parlato. Ecco, per fortuna io le domande non me le preparo, perché se no questa sarebbe stata una domanda bruciata, però in realtà io non mi preparo le domande e vado a chiedere le cose man mano che escono dalla chiacchierata e la prima cosa che mi viene in mente è questa, 73esima edizione, vuol dire che prima ce ne sono state 72 e uno dice vabbè quanto ci vuole a fare questo ragionamento? Poco, però se pensate che prima di tutto c'è una peculiarità unica per il Festival dei GAD, che è quella di non avere mai saltato un anno e questo già la dice lunga sul fatto dell'importanza anche di mantenere quest'anno. E poi così mi viene da pensare, no? 73 edizioni, 72 più questa, quante commedie sono arrivate? Come si faceva una volta a selezionarle prima dei DVD? C'erano le videocassette, ma prima delle videocassette? E insomma la scelta che quest'anno, che in questa occasione stiamo facendo è facilissima, si tratta di andare a scegliere un DVD e poi passarlo in regia e la regia lo mette in onda. Ma quanto lavoro c'è stato negli anni precedenti, nei decenni precedenti? È una cosa che fa rifletto. Non ti prepari le domande, ma poi quando le fai insomma sono domande importanti che danno modo di fare discorsi molto articolati. Iniziamo dalla 73esima edizione, ma nessuna saltata. È verissimo, dal 1948 il Festival non ha mai saltato un'edizione, motivo in cui per cui anche quest'anno non hanno così complesso, abbiamo sentito un dovere in più di dover andare in scena e di dover comunque mantenere questa tradizione e offrire un'opportunità importante alla gente. Non a caso dico questa cosa, perché quando è nato il Festival, e direi che quest'anno riprenderà questa sua funzione, il Festival nel 1948, quando è nato, è stata forse la prima opportunità che hanno avuto le persone di Pesaro per ricominciare a vivere, a uscire di casa dopo la tragedia della guerra. Per fortuna in maniera molto più ridotta, però anche quest'anno segniamo la riapertura autunnale dei teatri dopo un periodo in cui c'è stata comunque tanta sofferenza nel nostro territorio, quindi abbiamo sentito anche da questo punto di vista un dovere di offrire un'opportunità, tengo a ricordarlo, un'opportunità in cui il primo faro che abbiamo seguito è stato quello della sicurezza, ovviamente. Quindi si potrà venire a teatro in totale sicurezza, nella sicurezza del pubblico e nella sicurezza di tutte le persone che collaborano a fare questo Festival. Abbiamo avuto le felici esperienze estive con il Rossino per la Festival, poi con la mostra del cinema, abbiamo intenzione di proseguire su quella linea in cui, ripeto, al primo posto, come è giusto che sia, ci sarà la sicurezza di tutte le persone che vivono attorno all'evento, con la volontà di offrire un'opportunità importante delle persone, di una rinascita anche culturale, anche, perché no, direi emotiva e morale dopo un periodo difficile. Ora vengo all'altra parte della domanda, come si selezionano? Si selezionano ora con i DVD, un lavoro abbastanza impegnativo, perché il successo del Festival ne causa poi anche la difficoltà, perché sono tantissimi i lavori che ci vengono proposti. L'anno scorso erano 130 gli spettacoli che abbiamo io e la commissione selezionatrice visionato, quest'anno ovviamente un po' di meno, perché l'anno è, non ci vorrei più tornare, però sappiamo tutti che l'anno è particolare, comunque quasi 50 gli spettacoli che quest'anno sono stati proposti e fra i quali abbiamo scelto ora su un DVD, prima in videocassetta, ma prima ancora ovviamente di persona. Quando non c'erano questi strumenti non era il tempo mio, ma chi mi ha preceduto nella direzione artistica del Festival andava di persona a vedere gli spettacoli. Certo, non riuscivano probabilmente a vederne 130 come ne vediamo noi quest'anno, però poi ne selezionavano anche molti di più, perché poi in realtà noi quest'anno facciamo gli ultimi anni, facciamo tanti spettacoli, ma comunque diciamo attorno a una decina, nelle edizioni che sono andato un po' a guardare, negli archivi del Festival, nelle prime edizioni, gli spettacoli potevano essere anche 20-25 per ogni edizione, quindi ne visionavano di meno, ma ne sceglievano poi effettivamente tanti. Parliamo di questo discorso della sicurezza, perché in realtà il pubblico magari vuol saperne un po' di più, sicuramente tra i settori più rodati c'è quello appunto del teatro a Pesaro, ci sono un sacco di sviluppi, siamo in attesa di avere altre norme, però ce n'è una che è la più recente e che riporta a un numero accettabile le presenze in sala. Però Pesaro è stata molto avanti, Pesaro ha fatto lo spettacolo a mezzanotte del giorno in cui si potevano riaprire, Pesaro ha proposto gli spettacoli in piazza, ha aperto il Teatro Rossini, insomma diciamo che è un po' all'avanguardia, si può considerare all'avanguardia? Credo assolutamente di sì, possiamo dire con orgoglio di essere un po' di esempio per l'intera nazione forse, a Pesaro c'è stato il primo spettacolo il 15 giugno, Scagno Celestini ha inaugurato a Pesaro questa nuova possibilità di fare spettacoli in luoghi chiusi, che appunto dopo le chiusure totali è stata possibile a partire dal 15 giugno, a mezzanotte, un minuto, il 15 giugno, Pesaro ha inaugurato la stagione degli spettacoli, come dicevo appunto con Scagno Celestini. Poi c'è stata la volta del Rossini Opera Festival, credo unico festival in Italia, ma credo che anche varcando i confini nazionali non se ne trovino tanti altri esempi di produzione di nuovi spettacoli al chiuso, in questa meraviglia che è stato il Teatro Rossini con una pedana che ha ricoperto tutta la platea per dare modo all'orchestra di potersi posizionare in maniera distanziata, cosa che non sarebbe stata possibile in buca, quindi anche Rossini Opera Festival ha fatto scuola con lo spettacolo al chiuso e noi proseguiamo con questa forte anche dell'esperienza, ovviamente accumulata in questo periodo. Tu facevi riferimento a una norma di pochi giorni fa in cui la Regione Marche si è adeguata, come altre Regioni avevano fatto anche già da qualche settimana, e su questo ringraziamo la Regione Marche che ha avuto un'attenzione di riguardo verso lo spettacolo dal vivo, il Consorzio Marche Spettacolo, con il suo Presidente Daniele Vimini che si è fatto portavoce di questa esigenza che ha consentito di parametrizzare le capienze degli spazi agli spazi stessi. Il decreto ministeriale impone un vincolo uguale per tutti sulle 200 presenze nel caso di spettacolo dal chiuso, grazie a questa revisione, interpretazione in senso estensivo della norma, e queste capienze possono essere aumentate, ovvero sia se un teatro consente di mantenere le distanze di sicurezza si può salire sopra questo numero. Nel caso del teatro Rossini conto che potremo forse arrivare a 300, forse qualche numero di più, quindi comunque un passo in avanti verso la normalizzazione, ma lo ripeto a sfinimento ancora una volta di più, tutto non concedendo nulla alla mancanza di sicurezza. Quindi tutto viene fatto per salvaguardare al massimo la sicurezza, non solo la sicurezza reale, ma anche la sicurezza percepita, perché le persone devono venire a teatro essendo sicure, ma sentendosi sicure, perché deve essere un'esperienza piacevole da ogni punto di vista. Bene, quando abbiamo pensato a questo ciclo di appuntamenti su Rossini TV, l'idea era appunto quella di fare una selezione tra la miriade di DVD, perché anche se è vero che i DVD arrivano solo da qualche anno, poi comunque sono tantissimi, e andare a scegliere con qualche criterio quattro spettacoli da proporre ai telespettatori. Si poteva scegliere un criterio di merito, di premi, eccetera, poi alla fine l'idea è stata un'altra. Andiamo a cercare quello che rende l'idea della varietà della proposta del festival. Esattamente. Non ho risposto a una delle tue domande di prima, quanti sono stati nella storia del festival? Sono stati qualche migliaio, credo, degli spettacoli proposti in teatro. La nostra selezione si è concentrata sugli ultimi anni, dove avevamo materiale, e partiamo in realtà con uno recentissimo, con uno spettacolo dell'anno scorso, e poi diremo anche qual è e perché l'abbiamo scelto, ma ritorno a quello che dicevi. Cerchiamo in quattro appuntamenti di mostrare la massima varietà, quindi spettacoli contemporanei o di tradizione, spettacoli con una compagnia molto articolata, o spettacoli con una compagna più ridotta, addirittura il monologo, insomma, spettacoli drammatici o comici. Quindi cerchiamo in quattro appuntamenti di dare l'idea della varietà che si può trovare al festival, come dicevo all'inizio, quest'anno in una forma condensata, dieci giorni, tanto, tanto teatro in tutte le sue sfaccettature. Ma possiamo credo anche rivelare a questo punto cosa vedremo fra poco. Partiamo con uno spettacolo divertentissimo. Divertentissimo, con Paolo abbiamo anche sorriso sull'opportunità, di dare uno spettacolo che comunque concede anche qualche cosa a un linguaggio, diciamo, un po' colorito. Quindi vi avvertiamo prima, poi sarà ricordato forse in grafica. Ecco, state pronti a vedere uno spettacolo in cui c'è un uso di un linguaggio talvolta che concede qualche cosa anche al turpilocchio. Ma non è fatto in maniera gratuita, ma perché c'è un motivo, perché lo spettacolo è trionfatore. L'anno scorso al festival, nel premio del pubblico, quindi fu quello che riscosse il maggior gradimento da parte del pubblico, e che si capisce perché, perché veramente il pubblico si è divertito tantissimo, ad assistere allo spettacolo TikTok. TikTok di una compagnia di opera di Milano, che esordiva l'anno scorso al festival, la compagnia Maschere di Milano, che quest'anno tra l'altro ritroveremo al festival, ma avremo modo poi magari più avanti di entrare nel merito del programma di quest'anno. Restiamo sullo spettacolo che vedremo fra poco, dicevo TikTok, uno spettacolo che si svolge tutto nella sala d'aspetto di un medico, un medico psichiatra, e nella quale si incontrano persone che formano una piccola comunità e confrontano i loro disagi, diciamo così, il perché si trovano in quello spazio. Il turpiluoco viene dal fatto che una di queste persone soffre della sindrome di Tourette, che come sappiamo tende a far perdere talvolta qualche freino inibitorio, e quindi ci sarà questa persona che di freino inibitorio li perde tutti, direi, e quindi fa largo uso di gesti, o non solo parole, ma di gesti abbastanza espliciti e spinte. Il divertimento è veramente totale, è assicurato. Paolo mi confessava che non riusciva a smettere di guardarla, quindi... Sì, è vero, ieri ne ho dato un'occhiata, no? Tanto per capire di cosa parlavamo quando appunto ci prendiamo questo impegno di mandarla in onda nonostante qualche parolaccia in più, e l'idea era da un'occhiata e poi va bene. Poi invece in realtà non mi fermavo più, prima di tutto perché poi c'è un lavoro anche di riprese interessante, molto interessante, fatto con più telecamere, e insomma anche da parte loro c'è stata una cosa nel proporre il DVD intelligente, perché dà la possibilità di vedere con attenzione un taglio quasi televisivo, direi. Esatto. E poi mi piace sottolineare che la gestualità che accompagna le parolacce, che in un primo momento avevo anche interpretato come forse una scorciatoia attoriale, in realtà è funzionale a staccare dal contesto, cioè si capisce benissimo che lui in quel momento è preso dal furore della malattia, e questo rende la cosa anche meno, cioè per niente fastidiosa. Ecco, ci sono delle belle parolacce cariche, però almeno a mio parere per niente fastidiose, proprio perché sono quasi fuori contesto, lui si trasfigura, si trasforma, e in quel momento si capisce che cede suo malgrado, molto bravo tra l'altro l'interprete, perché fa capire che in quel momento lui sbotta, ma non vorrebbe e riesce a tenere questa cosa, almeno fin quando l'ho visto ogni volta, poi stasera me lo voglio vedere per intero. E tra l'altro aggiungo che tu hai sottolineato giustamente l'interprete che fu nella terna dei migliori attori l'anno scorso, ma una delle attrici invece fu premiata come migliore attrice caratterista, perché quindi insomma è uno spettacolo divertente, ma anche ben realizzato, ben recitato, e torno anche su una sottolineatura che facevi molto molto importante, quando parlavi di una regia televisiva, questo è un tema interessante, perché ogni anno ci troviamo a selezionare appunto gli spettacoli teatrali attraverso il mezzo televisivo, e questo crea dei problemi, perché di fatto nella selezione, se ora abbiamo scelto i spettacoli anche che avessero una buona resa televisiva, nella selezione dobbiamo fare lo sforzo di ripulire questa cosa, perché spettacoli che hanno delle riprese orrende, magari bisogna capire che teatralmente invece hanno un valore, e altri che magari hanno una regia video eccellente, poi in teatro perdono. Mi piace ricordare un aneddoto a questo proposito, anni fa, e se ho tempo per raccontare. Guarda, abbiamo giusto qualche, una manciata di secondi che ci servono per l'aneddoto. No, proprio per raccontare questa difficoltà che a volte abbiamo, e anche le cantonate che a volte si prendono, scegliendo attraverso un mezzo che non è quello che poi ti ritroverai in teatro. E mi ricordo tanti anni fa mi trovai a visionare uno spettacolo in sede appunto di selezione, che partiva con un monologo, monologo con una ripresa molto stretta di quest'attore, quindi sul viso dell'attore, poi piano piano si allargava, si allargava, si allargava, e insomma valutavamo quanto fosse efficace quest'attore, l'espressività di quest'attore. Allargando, 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 dopo un po' c'è uno stacco di camera, e ci accorgiamo che tutto questo monologo in teatro l'attore l'aveva fatto completamente di spalle. E questo quindi praticamente creava un problema, perché quello che noi avevamo valutato in maniera così positiva, questa interpretazione minica, facciale di quest'attore, in realtà era una cosa che potevamo godere solo attraverso il video, ma non in teatro, perché questo monologo in teatro sarebbe stato visto solo di spalle, vedendo la parte meno nobile, direi, dell'attore, e forse anche meno espressiva. Per cui questo praticamente sui saluti può essere il criterio essenziale delle scelte, cioè qualcosa comunque che fosse trasmissibile anche in televisione, le scelte che stiamo operando per queste quattro puntate di verso il festival. Godiamoci allora insieme a questo spettacolo, questo TikTok, dalla compagnia, ricordamelo? Maschere di Opera Milano. Maschere di Opera Milano, vincitore l'anno scorso del premio del pubblico, e con un'attrice che ha vinto il premio per la miglior attrice, giusto? Miglior caratterista. Caratterista. Per cui, perfetto, godiamoci questo spettacolo insieme e l'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie a te! Grazie a tutti.